ciao a tutti popolo del tubo e benvenuti in un nuovo test mod finalmente ragazzi è uscita qualcosa che vale la pena insomma portare far vedere però ultimamente sul modab ufficiale non sta uscendo veramente una beata cipetta e quindi ragazzi ringrazio denis innanzitutto che su youtube mi ha segnalato questi camion sul modab us quindi vi lascio il link di modab us ovviamente non trattandosi del modab ufficiale la mod è solo su pc ragazzi trattasi di un bellissimo camion americano dovrebbe essere americano a vederlo un bellissimo camion ford andiamo subito a vederlo nel dettaglio ragazzi eccolo qua ford ltl 9000 come vedete compatibilissimo con qualsiasi cosa 375 cavalli 40.000 litri di capienza ma andiamo un attimino a vedere a vedere bene come è composto questo camion questo camion innanzitutto ragazzi come vedete i colori cioè si possono cambiare dai cerchioni e guardate i colori infiniti guardate i colori infiniti che ci sono per i cerchioni poi si può cambiare aspetta tarp non so nemmeno cosa sia tarp c'è una marea di roba poi insomma voi vi mettete lì e le cambiate le parti cromate addirittura guardate si possono cambiare i colori delle delle parti cromate guardate che roba poi si può cambiare c'è di tutto ragazzi guardate i parafanghi davanti i cosini questi guarda cioè mamma mia mamma mia ragazzi è tutto e poi ovviamente la cabina la cabina che la cosa principale guardate qua guardate qua che moddina che robertino vi sta facendo vedere poi la configurazione c'è questa configurazione qua che quella standard e ragazzi poi passiamo a questa qua passiamo a questa qui che serve appunto per gli scarrabili guardate che bestiola poi abbiamo questa qua che anche auto caricante si può scegliere anche se la volete auto caricante infatti quando scegliete la flatbed qua sotto ci abbiamo l'opzione se lo vogliamo auto caricante light o full light mi sembra che abbia solo le balle full porta tutto se non ho capito male comunque poi vi sbizzarrirete voi ammazza quanto era difficile sta parola poi continuiamo aspetta e continuiamo a vedere un attimino ecco le configurazioni dopo flatbed flatbed abbiamo questo qua aspetta aspetta sempre flatbed ma con le rampe quindi ottima ragazzi per portare macchine trattori e cose c'è raga è fantastico sto camion se non non ve lo portavo date meletta sapete robertino vi porta solo le cose che possono essere utile poi ragazzi questo fantastico cassone versione dump bellissimo ragazzi bellissimo e basta e basta semi short semi log eccetera eccetera quindi ragazzi c'è praticamente di tutto poi la marca gomme andiamo dalle nokia con la configurazione nokian nokian e nokian hivy alla configurazione michelin con michelin michelin e michelin hivy e poi trellebor con care wills care wills hivy ok mamma mia quante gomme e poi lizard con alco street lizard street ok ragazzi cioè mi sembra che non so che cosa volete di più poi ragazzi dietro vedete se volete gli scarichi come volete gli scarichi vi volete scegliere gli scarichi come volete gli scarichi poi sun vision sun vision che sono le cosette per il sole ecco qua ragazzi sì no poi bumper standard light oppure questi così guardati così davanti cioè vi potete vi potete praticamente fare il camion come cacchio vi pare a voi come cacchio vi pare a voi è uno spettacolo poi ragazzi le parti laterali le parti laterali potete scegliere guardate la scaletta potete scegliere niente potete scegliere il doppio serbatoio cioè spettacolare ragazzi spetta spettacolare poi i colori dei parafanghi guardate i colori se volete i parafanghi se non volete i parafanghi come li volete come cacchio li volete dove li volete ragazzi potete scegliere tutto le trombe le trombe volete le trombe senza trombe con trombe senza trombe poi i finestrini come li volete colorati non colorati potete scegliere il colore dei finestrini non li potete scegliere non lo so li volete bianchi li volete trasparenti cioè raga tutto o poi potete scegliere se solo sulla versione dump bed mi raccomando ragazzi quando tra parentesi vedete flat bed only dump bed o significa che solo in quella configurazione è disponibile questa opzione ok ragazzi ad esempio qua potete scegliere se volete il cosino dietro che non so se uno spargisale perché c'è tailgate spreader eccolo qua vedete se sceglierlo o no non è affatto malina come cosa poi tag axel cioè se volete se volete vedete i le ruote laterali eccole qua ecco vedete in configurazione questa qua vedete se volete la spondina o meno guardate che spettacolo e poi infine la configurazione motore si parte da un commons 230 cavalli si passa per le ntc 350 cavalli fino al caterpillar di 375 cavalli quindi insomma abbiamo potenza a vendere ragazzi potenza a vendere e poi andiamo a vederli in gioco ragazzi allora andiamo a vedere questo gioiellino che ho appena fatto io a caso allora innanzitutto guardiamo gli interni gli interni ragazzi sono favolosi a dir poco favolosi a dir poco spettacolari accendiamo accendiamo ecco qua ragazzi vedete che gli interni sono spettacolari guardate che roba specchiettini tutto quanto fatto fatto alla grande mamma mia che spettacolo adesso io sto distruggendo tutto ma gli sto facendo fare un giletto all'interno spettacolare ragazzi spettacolare per quanto riguarda ragazzi la versione autoload invece eccola qua la trovate appunto nella modalità flat allora con il tasto z decidete quello che volete caricare cotone pallets balle quadre balle tonde io in questo scatole di uova in questo caso ho preso i pallets vi avvicinate ovviamente a quello che volete caricare e con il tasto u ragazzi dopo aver scelto con il tasto z con il tasto u attivate l'auto caricamento vi avvicinate ai vostri pallet il più possibile e l'avete caricato quando avete deciso dove come quando scaricare la vostra roba non dovete far altro che ridisattivare con il tasto u di nuovo l'auto caricamento con il tasto ragazzi con il tasto y cioè scusate b decidete quale lato volete scaricare se vedete se lo volete a sinistra se lo volete dietro o se lo volete a destra una volta capito quale lato quale lato volete su quale lato volete scaricare potete tranquillamente scaricarlo scaricare tutto quanto con il tasto y ok ragazzi è facilissimo è facilissimo niente di più facile ragazzi vogliamo parlare ragazzi della versione dub guardate che spettacolo il cosino che si apre e che si chiude cioè una roba pazzesca e insomma ragazzi chissà quante altre cosine potete fare con questo con questo genere di cambio un po insomma non è che ho scoperto tutto insomma il resto vedetevelo un po voi io ho fatto un'infarinata generica sapete che i miei test mod sono più un'infarinata generica ecco dove io vi dico ragazzi esiste questa mod andatevelo a vedere perché è una figata e questa mod è effettivamente una figata fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate io come al solito ringrazio i miei amici abbonati che sono l'anima la vita e insomma tutto 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 quello che permette a canale di andare avanti tra l'altro gli amici abbonati di livello base e popolo del tubo avranno una sorpresa in settimana una bella sorpresina gli altri invece grazie grazie mille a tutti gli altri perché veramente mi date mi date sempre una mano a crescere e a sostenermi anche voi potete farlo abbonandovi o con una piccola donazione libera in descrizione come al solito vi ricordo potete comprare farming a prezzo scontatissimo dal link di istangaming qua sotto ma anche altri tanti altri giochi vi ricordo che c'è il mio server disco di venire su twitch e ragazzi sul mio canale twitch dove faccio live quasi tutti i giorni quindi venite ad oremus e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao